Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ne faremo un gioco. Lo faremo con un bicchiere di plastica, può essere quella plastica normale o anche di plasticatura. Io uso uno di plastica. Poi ti servirà dello scotch di carta o colla, altri scotch, pallina da ping pong, qualsiasi, e dello spago rosso. Iniziamo. Prendiamo il nostro bicchiere e il nostro spago e lo posizioniamo così, qua, così. E noi poi ci andremo a mettere il pezzo di scotch qua. Prendo un pezzo di scotch di carta e ce lo metto qua. Quando abbiamo fatto questo, guardiamo che sia ben fissato e si toglie un po'. E allora andremo a mettere un altro pezzo e poi io voglio fare che il filo non sia qua, non parte da qua ma parte da qua. Allora facciamo così, che sia in centro e poi ci mettiamo un altro pezzo di scotch. Quando abbiamo fatto questo, abbiamo negato lo spago, prendiamo la nostra pallina da ping pong e andiamo a attaccarla sempre con un pezzo di scotch di carta qua sulla pallina. Ora andiamo con questo pezzo di scotch di carta e ce lo mettiamo così fissiamo. Qui non deve essere tanto fissato, tanto la pallina di ping pong è leggera e quindi si può molto facile mettere. Quindi diventa questo, col bicchiere, così, e si gioca così. Tu cerchi di far andare la pallina, così. Non mi faccio così. Questo era tutto e al prossimo video. Cits tutto. Cits tutto.